Quest'anno purtroppo abbiamo una 60% di perdita circa, causa alte temperature nel periodo di fioritura dei fagioli, quindi ci siamo trovati ad avere poche aziende che sono pronte per la festa del fagiolo e che comunque durante questi tre giorni garantiamo a tutte le gastronomie il prodotto sicuramente quello di Lamont certificato e meno prodotto sui banchi.